Antonio Blasioli ufficializza il suo sì all'incarico di vice sindaco di Pescara. Sarà lui a sostituire Enzo Del Vecchio e chiamato alla corte del governatore D'Alfonso per ricoprire l'incarico al vertice della segreteria del presidente al posto di Claudio Ruffini ormai giunto alla pensione. Blasioli era stato candidato sindaco insieme ad Alessandrini ottenendo il 30% delle preferenze contro il 35% dell'attuale sindaco, un balluttaggio che fu evitato grazie ad un accordo tra le parti che assegnò al competitor di Alessandrini il ruolo di presidente del Consiglio Comunale. Oggi invece si accorcia la distanza tra i due che inizieranno a lavorare fianco a fianco per la città. È un ruolo di coordinatore insieme al sindaco della giunta, ruolo di primo vicario del sindaco. È un ruolo che mi sento proprio in quanto operativo come attività politica ed è un ruolo che cercherò di fare con la stessa umiltà e lo stesso spirito di dialogo e di collaborazione con cui ho svolto quello precedente. Quello che invece accadrà a due anni a questa parte, cioè nel 2019, quando ci saranno le nuove elezioni a Pescara, saranno le primarie a deciderlo perché è così che è scritto nello statuto del nostro partito. Questa è una città molto pretenziosa, una città che dimentica molto facilmente quello che di buono viene fatto in condizioni veramente disagevoli. Non dimentichiamo che noi abbiamo una città in predissesso che ha pochissima possibilità di fare mutui, per esempio per lavori pubblici e per la manutenzione stradale. Quindi è una città che facilmente dimentica quello che si è fatto per salvare le sue finanze e chiede sempre di più. Questo è un difetto ma è anche un pregio perché da amministratore ci spinge sempre ad andare avanti e fare di più oltre il possibile di quello che ci è consentito per venire incontro alle istanze legittime della cittadinanza.